Quello che è successo dopo poi è legato a questo tradimento dei patti sottoscritti in effetti perché era stato riservato a loro addirittura l'onore delle armi, quindi la possibilità di conservare per gli ufficiali la pistola d'ordinanza cosa che viceversa appena arrivati alla caserma del Savoia Cavalleria sono state loro sottratte. Ormai sbaraccati gli altri partigiani più moderati eravamo quasi esclusivamente, anzi esclusivamente, le mani dei partigiani rossi e quindi non è che ci fosse molto da ragionare o commentare o dire gli accordi presi. Dopodiché la vicenda è quella nota, grazie soprattutto alla testimonianza di un ufficiale tedesco di Alto Gallo il quale poi è sopravvissuto a queste vicende ed è emigrato in Brasile e ha raccontato di avere osservato da una finestra quello che è realmente accaduto. hanno chiamato per un interrogatorio Visconti e il tenente Stefanini, eravamo al primo piano, scese attraversando il cortino e gli ha sparato tutti e due.